Quincinetto, teatro di un'importante manifestazione, tecnologia e scienza, la comunicazione di ieri di oggi. La manifestazione è promossa dal Laboratorio Museo Tecnologicamente e dalla Fondazione Natale Cappellaro, con il patrocino del Comune di Quincinetto e la collaborazione della Biblioteca e della Proloco di Quincinetto. Perché questa manifestazione è proprio qui a Quincinetto? Beh, perché la sento dentro di me benaugurante, nel senso che noi stasera presentiamo dei libri e parto da dove eravamo rimasti, dall'editoria canavesana, che a Quincinetto nacque e ebbe grandi successi. Poi nella sua, diciamo così, deflagrazione è approdata in moltissimi comuni del Canavese, questo mi ha fatto molto piacere. L'idea di partire dal nocciolo duro dell'editoria canavesana è partire dal cuore dell'Olivetti. Quindi spero di poter partire con l'edizione al prossimo anno, questo è il numero zero, proprio partendo dai libri dell'Olivetti. Quindi dalla storia dell'arte tecnologia e cosa presenta Quincinetto? Un prodotto tecnologicamente avanzato sulla macchina che fa le miasse, che è il prodotto che era il prodotto dei poveri che adesso è un prodotto di nicchia. Noi abbiamo sempre visto preparare le miasse in maniera tradizionale, ma oggi abbiamo appunto avuto modo di venire a conoscenza che esiste una macchina che le cucina in maniera automatizzata. Sì, io che sono eppore di Ese ho potuto scoprire insieme agli abitanti di Quincinetto questa meraviglia della meccanica che hanno voluto presentare oggi in cocomitanza della mostra sulle tecnologie olivettiane, comparate quindi le tecnologie che sono nate qui sul territorio di Quincinetto. Le miasse appunto sono un prodotto loro tipico, eccellente, e uno dei loro esperti di miasse mi hanno spiegato, ha inventato questa macchina che cuoce in sequenza, mi pare, sei miasse a volta. Non riesce a fare tutto il processo perché la parte dell'uomo, mi hanno spiegato, è ancora importante, però allevia il lavoro molto pesante di trasporto e solleva la parte di quando si devono sollevare queste piastre, che mi hanno spiegato, pesano due chili, quindi è molto più agevole. Non abbiamo ancora potuto assaggiare il prodotto, spero di poterlo fare presto per compararlo con quello che abbiamo assaggiato stasera qui. A parte le mie asse, a questa macchina automatizzata, nel corso della serata sono stati presentati tre importanti libri, di che cosa si tratta? Sì, nell'ambito appunto di queste giornate dedicate alla tecnologia del territorio, noi siamo venuti qui a Quincinetto con una parte della mostra, dell'esposizione che noi abbiamo a Ivreal Museo Tecnologicamente e con la nostra trilogia, che racconta in tre volumi appunto le tre maggiori epoche, le maggiori storie della storia dell'Olivetti. C'è un libro dedicato alla meccanica, un libro dedicato allo scrivere meccanico, un libro dedicato al calcolo meccanico e l'ultimo della trilogia dedicato all'elettronica. In questa serata abbiamo estrapolato tre brani dei libri che sono stati letti da Maria Teresa Vernaleone e Silmo, l'autore che li ha scritti, ha raccontato un pochino lo spirito con cui sono stati pensati e realizzati. Questo per raccontare un pochino a chi ancora non conosce il nostro lavoro quotidiano che svolgiamo in Ivrea da ormai quasi dieci anni.